Diventa un caso nazionale l'avvertenza Electrolux e il simbolo degli imperi industriali che l'Italia sta perdendo ormai da anni a causa di una folle tassazione. La vicenda è un copione già visto a Porto Marghera. Oggi è salita la protesta dell'Electrolux di Porcia dopo l'annuncio da parte dell'azienda svedese di voler tagliare i salari. La multinazionale ha precisato di aver proposto una riduzione di 3 euro all'ora, ossia l'8% di riduzione, meno di 130 euro al mese. Sindacato e lavoratori non ci stanno e la Serracchiani, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, ricorda che la regione ha dato miliardi di lire alla multinazionale quando si è insediata l'Electrolux e chiede un tavolo. L'azienda risponde dicendo che intende, testuali parole, raffreddare l'effetto inflattivo del costo del lavoro, responsabile del continuo accrescere del gap competitivo con i paesi dell'est Europa. Insomma, in Italia il costo del lavoro, il famoso cuneo fiscale è troppo alto e non rende competitive le aziende con il resto del pianeta. Ne sa qualcosa Porto Marghera? Si è svuotata, abbandonata dai grandi gruppi industriali europei che hanno preferito delocalizzare e non soltanto nei paesi dell'est dove la tassazione è molto più bassa. Hanno preferito paesi evoluti come la Germania e la Spagna, qualsiasi piuttosto che l'Italia. Un paese da dove sta fuggendo anche la Fiat che sta trasferendo la sede legale a Londra dopo aver vissuto per anni sui contribuenti italiani.